La favola musicale Pierino e Lupo, raccontata in maniera ironica da un narratore speciale, Pinuccio, l'attore barese Alessio Giannone, tornato nella città dei Sassi per offrire, la sua voce narrante, a una favola senza tempo portata in scena nell'auditorium Gervasio dall'orchestra della Magna Grecia, diretta dal maestro Piero Romano. Alessio Giannone alias Pinuccio ha raccontato la storia di Pierino e dei suoi amici animali rivisitandola in chiave ironica. Chiari riferimenti all'attualità, con quella nota satirica che consente di avvicinare il pubblico alla meravigliosa opera musicale. La localizzazione della vicenda in un contesto cittadino, l'improvvisazione e l'interazione irriverente con il maestro e l'orchestra rendono unica l'interpretazione. Lo spettacolo è stato organizzato dall'orchestra della Magna Grecia in collaborazione con l'Associazione Musicale Luis Bakalov e con Basilicata Circuito Musicale.